Musica Salve ragazzi, benvenuti su Etna Comics TV, sono insieme al caro Gianandrea Muglià di ODS E al carissimo Andrea Rotolo di ODS Io sono qui a 89, Marco Merrino YouTube sta prendendo un po' piede, no? Si vuole insinuarsi anche a quella che è la televisione Infatti siamo stati entrambi i canali ospiti A Sesta Rete, di Etna Comics TV Puoi parlarne un po'? Allora, siamo stati ospiti appunto di Etna Comics TV Dove abbiamo parlato almeno per quanto riguarda il nostro canale Sul doppiaggio, su come viene ingaggiato un doppiatore E cosa consiste, il lavoro del doppiatore, è vero Gian? Si, è stata una puntata molto interessante Oltretutto abbiamo avuto dei responsi molto positivi Sia da chi gestisce Sesta Rete Sia da tutti quanti i vari ospiti E chi ha seguito la puntata Ed è stata una cosa molto edificante per tutti noi E anche ovviamente per tutti i ragazzi che ci hanno portato qui a Catania Adesso speriamo che gli YouTubers possano avere sempre più spazio Sempre più spazio di manovra per le proprie idee Per i propri progetti Perché ognuno di noi ne ha uno E soltanto che non abbiamo mai avuto lo spazio per poterlo esprimere Etna Comics quest'anno ci ha dato l'occasione per poterlo fare Speriamo che non sia l'unica fiera a dare questo spazio a noi YouTubers Anche perché lo YouTuber è sempre stato nelle fiere una grande forza per portare gente Ma le fiere non se ne sono mai rese conto, vero Marco? Ovviamente YouTube viene visto un po' come l'anticristo della creatività Anche se staremmo notando tutti quanti Che molti dei personaggi più influenti Come è detto appunto che portare persone Anche per ispirare YouTubers in erba Perché ognuno dice Magari mi ispiro, copio qualcosina dalla media Qualcuno di questo show Però anche in YouTube Quando da possibilità a questi YouTuber in erba Di avvicinarsi ai YouTubers che già hanno un nome Di YouTube Alley farà capire Che quella posizione è facilmente raggiungibile Non siamo dei VIP Non siamo nello show business Siamo ragazzi normali E che la creatività che da zero può essere esplicata Quindi ragazzi Io insieme a Eurei Doppiato Stronzate Vi diamo l'addio E ci vediamo alla prossima puntata di Ethelacomics TV E alla prossima fiera Se daranno spazio alla YouTube Alley Quindi ciao Ciao ragazzi Ciao a tutti quanti Yes Maestà non c'è più vino Cioè È vuoto Come sarebbe Non c'è più vino Non te l'ho mai chiesto Maestà è finito il vino Vino